Da che raster lo prendete? Dal vostro demo BPM. Andate a creare un nuovo app raster. Andate a crearlo dove volete. Io ho creato il demo slope. Lo andate a nominare. Sono perso la prima professione di video. Dov'è? Demo, analisi geomorfologica, raster, analisi geomorfologica, pendenza, slope. C'è? Andiamo qua a domenica, a domenica ho detto, fai l'ingresso, raster demo, vedo adice. Non sappiamo la stessa cosa. Selezionate, scusate, selezionate. Allora, siete tutti appunto con questa finestra aperta? Sì. Sì? Bene. Quindi andate a scegliere raster per il calcolo della pendenza, il vostro demo BPM. Andate a scegliere a creare un raster di output. Io vado a solo ora a scrivere quello che avevo. Quindi lo chiamate, non so, da un slope, quello che volete. Create un file geotip di default. Potete scegliere quello che volete. Le geotip. Lasciate uno con la struttura e zetta. Sì. Anzette. Raggiunge il progetto, sì. Ok. Andate a portarlo qui sotto che potete. Sì. E vedete, vi calcola la pendenza in percentuale. Va da 0,55% a 46% nelle quelle cose. Perché è tutto il Trentino al Soalice, quindi ci saranno anche le zone di montagna. Cancello quello prima. Voi non lo avete. Passo successivo. Allora, i vostri compagni avranno un file direttamente diverso. Con dei piccoli boni di coronari, giusto? Quindi, o voi potete esportare, se avete creato in un'altra maniera, self-catchment. E se è lo shape dei self-catchment. Perché non potete andare a modificare direttamente quello lì. Quindi, un passo che potreste fare, se non avete già un file con i self-catchment originali. E andare a fare un salva con nome. E andate a salvarlo in una cartella a parte. In definitiva, vi crea lo stesso shape file. Però, in un altro percorso. E' come se voi avete due shape file. Quindi andate, salva con nome, sfoglia. Andate a decidere dove metterlo. nebeno. Iniziare. Ho anni fa uno u studiato. Iniziamo. 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 quindi andate a caricarlo in definitiva in molte maniera più spigliata su questa cosa andate a fare su raster statistiche zonali e statistiche zonali andate a scegliere il raster su cui fare le statistiche che non è il vostro DEM ma ora è il raster delle tendenze quindi DEMS LOATER per me dove andiamo a farlo? in un nuovo file che abbiamo creato creato un prepisso perché ricrea tre nuove colonne con un conteggio, una media e un massimo o la sua, non mi ricordo Dica Allora, in definitiva tu non devi modificare i subcatchments che hai già in default semplicemente perché ti creano delle nuove colonne no? ok? allora tutte le saldi a parte quindi o tu hai fatto il calcolo dei subcatchments con i poligoni di Voronoi che spiega il tutorial di Bee Gees Water questa cosa c'è nel tutorial comunque se volete che venga rispiegata con i poligoni di Voronoi o di Bee Gees se non mi ricordo quindi voi avete bisogno di uno shapefile separato se voi avete creato manualmente i vostri subcatchments cos'è che andate a fare? andate a salvare con nome il vostro shapefile di default quindi come se voi andate ad esportarlo a creare una coppia esportata ok? quindi fate vicino a sarcasmet salva con nome ok? e create un nuovo shapefile che è uguale identico a quello di origine e il calcolo lo farete su questo shapefile non su quello originale ripeto quelli originali gli attributi che hanno quelli rimangono quindi ritorni su raster statistiche zonali praticamente le statistiche zonali cosa fanno? creano delle statistiche sui poligoni iniziali dovete dare cargo come plugin su come plugin precedente quindi in maniera veloce di nuovo andiamo a chiedere al raster zonali quali statistiche voglio quindi vado a fare le statistiche su questo raster nei sottobaccini ripeto i sottobaccini quelli che avete salvato in maniera separata a meno che voi non avete fatto la procedura che è spiegata con Giswater sui tutorial di Giswater c'è passo per passo come creare questo di sottobaccini attraverso i poligoni di boronoi create una colonna un prefisso di colonna di output praticamente avevano ripeto tre colonne quindi le nuove tre colonne gli diciamo guarda che mi stai facendo le statistiche sulla sottobaccini sulla tendenza ok adesso devo trovare il sottobaccini e alla fine ne ha creato tre colonne ma a me non ha calcolato nulla non so perché a te la però io ho una domanda riposarsi in realtà su account è un conteggio penso di pixel e deve essere un numero intero o può essere un numero decimale perché a me ovunque deve essere un numero intero per una condotta da un numero decimale ma a te non interessa quella è normale allora credo che se è pixel è numero di pixel se è conteggio il numero di pixel è no perché si una azione di tutorial riguarda chi ha provato a farlo quindi vanno tutti i risparimenti a me mi sono stranito in caso di risparmi quindi mi sono chiesti esattamente cosa rappresentanza che vi va tornato sì per delle statistiche zonali o comunque se non è più giudizio ma quello mi interessa proprio io non l'ho mai usato proprio di solito a volte serve poter essere un po' di pixel semplicemente perché è una stimata di pixel quindi di pixel bassi perché di pixel di pixel perché di pixel di pixel non devo preoccupare c'è di pixel 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 sette, sei